Arriva ad Arezzo un'ordinanza anti-piccioni che riguarda una piccola porzione di via Vezzosi, quella alle mie spalle, nella quale il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha vietato di dar da mangiare ai piccioni. Penso sia una cosa positiva, l'importante è che venga fatta rispettare. La zona rischio è stata individuata a seguito di un sopralluogo dell'Asla che ha evidenziato un pericolo per la salute pubblica a causa della presenza massiccia di volatili. In questa zona ci sarebbe infatti chi nutre piccioni, richiamandoli così in gran quantità. C'è qualcuno lì del palazzo che continua a dargli mangiare continuamente, da anni. E quindi qual è la situazione adesso? Quello che trova in terra, scrementi, tutto, di piccioni, la terrazza lì è sempre piena. Il sindaco Alessandro Ghinelli con il provvedimento ha così di fatto vietato il responsabile di dar da mangiare ai piccioni, ordinando però anche la rimozione delle loro deiezioni. La loro presenza non determina soltanto problemi di tipo igienico appunto legati alla presenza del guano. In effetti alcuni animali possono essere ammalati e quindi tramite il guano per lo più trasmettere alcune infezioni. Faccio alcuni esempi. Infezione di tipo omicotico, cioè da funghi. Malattie più conosciute, ai più come la salmonellosi, infezione da escherichia coli, legati alla presenza di questi batteri nel guano. L'invito è di non dar da mangiare ai piccioni per evitare delle concentrazioni. Naturalmente se si dà da mangiare ai piccioni li richiamiamo, ne favoriamo anche la moltiplicazione. Per cui rappresentando non solo un problema estetico di deterioramento degli edifici, dei monumenti, di tutto quello che magari ci può essere caro, ma può rappresentare anche problemi sanitari, chiaramente è fortemente sconsigliato alimentarli e anzi sarebbe consigliabile adottare delle metodologie per non farli stare vicino a casa nostra. Grazie. Grazie.